Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! E sta ricetta, vi assicuro, si fa in 10 minuti Mi vergogno quasi a spiegarvela Quindi, mentre vi guardate come la faccio Io vi racconto chi mi ha insegnato a farla Avete presente quelle famiglie che non sono proprio parenti Però praticamente come se lo fossero Che gli volete bene come se fossero dei nonni E i figli praticamente sono come fossero degli zii E le figlie sono come fossero tue cugine O quasi sorelle Ecco, questa ricetta me l'ha data una di loro Che potrebbe essere, boh, diciamo Forse mia zia, però come età forse più mia sorella Ok, troppo complicato, vi spiego la torta che faccio prima Cuocete la pasta sfoglia da sola per 10 minuti Fatela raffreddare Aggiungete la salsa tornata, pomodorini, capperi, olive E magnatevela Ale, grazie per la ricetta E come dico sempre, lasciate il grembiule e provatela anche voi